Bentornati su MyFootballGersey. Oggi vediamo la prima maglia del Marocco, la squadra che ha stupito tutti nei mondiali in Qatar, in versione player. Strettamente ispirata alle magliette della Coppa del Mondo del 1998, la maglia casalinga Puma Marocco 2022 World Cup è prevalentemente rossa, con una fascia sul petto verde e un colletto a V verde. I polsini delle maniche hanno un orlo sempre di colore verde. Il simbolo Puma è posizionato al centro di colore bianco, lo stemma della Nazionale a sinistra sul petto. La maglia è realizzata in poliestere al 100%. La maglia Authentic è la versione indossata in campo dalla squadra. La vestibilità, più aderente rispetto alla versione fan, è progettata per il fisico dell'atleta. Questa maglia mi piace e in virtù della strepitosa mondiale ho deciso di dare 5 stelle. Bello il contrasto, bellissimo il tessuto della versione player di Puma, al costo che vedete qui sopra, sopra veramente un affare irripetibile. In descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia e andate a vedere sul sito anche gli sconti progressivi legati alle quantità. La consegna è stata molto veloce, questa è arrivata in 22 giorni. Ora vi lascio alla parte finale nella quale vedrete la vestibilità. Nel frattempo spero che possiate regalarci un like e iscrivervi al canale. Per oggi è tutto! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia large della versione player. Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa.